È un momento di grande riflessione per Massimo Giletti, confermato ancora al timone dello spazio domenicale d'approfondimento di Rai 1 all'arena. In un'intervista al settimanale Oggi, infatti, il conduttore ha manifestato una palese stanchezza nei confronti di Mamma Rai e ha dichiarato di avere altri progetti al di là della rete pubblica, rinforzando così le voci circolate qualche mese fa su una sua sempre più probabile migrazione verso altri lidi televisivi. Il presentatore ha usato parole alquanto pesanti in merito alla sua situazione lavorativa attuale, sottolineando di non sentirsi apprezzato. Mi sono stancato, ha detto, al settimanale di essere sempre il primo a credere nelle trasmissioni che sono chiamato a fare. Tony, sempre più amari ed eloquenti, assume il suo lungo sfogo quando dice se devo dire la verità mi sono scocciato, che cosa deve ancora dimostrare un professionista di 54 anni che per di più conduce da anni, un talk che tutte le domeniche fa 4 milioni di telespettatori e il 22% di share. Infine la stoccata finale, preludio chissà di un imminente addio alla Rai. Per me, ha detto infatti, è un momento di riflessione, guardo poco al futuro, anche se dentro di me ho già preso delle decisioni su quello che sarà il mio futuro professionale. non so muovermi se non attraverso il prodotto e quindi attraverso il mio lavoro.